L'Europa tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento. Le guerre di religione. Dopo la riforma luterana, l'Europa si divise in stati di fede cattolica e in stati di fede protestante. Questi stati diedero vita fino a circa la metà del Seicento a numerose guerre di religione, perché i sovrani non ammettevano all'interno dei loro stati religioni diverse da quella che essi stessi professavano. Si entra pertanto in un periodo storico in cui le persone vengono perseguitate, incarcerate, uccise a causa della loro religione. Le guerre di religione vengono combattute, oltre che con scopi religiosi, anche con obiettivi di supremazia politico-economica sull'Europa. Troviamo conflitti di religione in Inghilterra e in Francia, due tra i più importanti stati europei di quel momento storico. Questi conflitti interni a Inghilterra e Francia sembrano favorire, almeno inizialmente, l'ascesa politica di Filippo II, che nel 1556 diventa re di Spagna. In Inghilterra invece era salita al trono Maria Tudor che era cattolica e che voleva riportare il suo stato dall'anglicanesimo, introdotto da Enrico VIII al cattolicesimo. Maria Tudor viene chiamata Maria la sanguinaria perché non esita a utilizzare metodi molto duri per ottenere i suoi obiettivi, addirittura vengono condannate numerosissime persone a rogo. Alla morte di Maria nel 1558 va al potere Elisabetta I che fece ritornare l'Inghilterra all'anglicanesimo, dando una maggiore tranquillità politico-religiosa al suo stato. In Francia invece, dove un quinto della popolazione era protestante, i protestanti francesi si chiamavano Ugonotti, il re era rimasto cattolico. Il conflitto in Francia nasce quando Enrico II muore nel 1559. Comincia a questo punto a regnare la moglie Caterina dei Medici, ritenuta debole e proprio per questo all'interno del suo paese inizia una sanguinosissima lotta tra il partito Ugonotto, cioè quello dei protestanti, e il partito dei cattolici estremisti. Inizia una lotta lunga che si conclude solo nel 1598, quando diviene re Enrico IV. Enrico IV per diventare re da Ugonotto si converte al cattolicesimo, ma emana l'editto di Nantes che è un editto che afferma la tolleranza nei confronti degli Ugonotti francesi. Nel frattempo Filippo II, re di Spagna, si era dato due obiettivi importanti, imporre la superiorità della Spagna in Europa e difendere il cattolicesimo dai protestanti e dai musulmani. Filippo II difende il cattolicesimo dei musulmani, all'interno lottando contro i moriscos e accomunando in questa lotta anche gli ebrei. Lottando però contro moriscos ed ebrei, Filippo II indebolisce la Spagna dal punto di vista economico, imprenditoriale. In politica estera invece combatte i turchi e li sconfigge nella battaglia di Lepanto nel 1571. Si concentra poi in una lotta contro i protestanti con una dura repressione nei confronti dei calvinisti olandesi. Questa dura repressione però porterà nel 1581 i calvinisti olandesi a riorganizzarsi, a combattere contro il loro sovrano e a proclamare la nascita di un nuovo Stato, l'Olanda. Il principale nemico di Filippo II fu Elisabetta I d'Inghilterra, la quale una volta salita al trono riesce a riorganizzare il proprio Stato e a renderlo forte e potente a livello di politica estera e tanto potente da mettere in difficoltà la forza della Spagna e di Filippo II. Stato, l'Olanda. Grazie per la visione